Domenica 26 febbraio 2023 è una data storica per il nuovo PD, che scendendo in campo con le primarie cerca di rilanciarsi a livello regionale e nazionale. Da una parte Stefano Bonaccini e dall'altra Elislein per la rincorsa alla segreteria nazionale del partito. Chantal Bonprezze e Michela Bellomaria invece a contendersi l'elezione alla segreteria regionale dei DEM. Dunque domenica 26 febbraio saranno aperti 60 seggi sul territorio provinciale, dove potranno recarsi tutti gli elettori del Partito Democratico muniti di carta d'identità e di tessere elettorale. La votazione si effettua tracciando una sola X nel nome del candidato scelto. Il partito viene da due anni di commissariamento che ovviamente dopo le elezioni regionali del 2020 hanno avuto questa conseguenza per il partito. E ovviamente il lavoro di discussione e di opposizione a questa nuova giunta regionale non è stato efficacissimo nonostante l'impegno dei consiglieri regionali. Per cui domenica gli elettori del Partito Democratico, non solo gli iscritti, sono invitati a Igazebo. Nel nostro comune saranno 12 postazioni per cui abbiamo la stessa organizzazione delle primarie degli anni precedenti. Orgogliosi che il Partito Democratico, nonostante le difficoltà oggettive, continua a stare sul campo della partecipazione e a chiedere a tutti i cittadini il loro contributo. Bisogna ristabilire l'armonia e l'empatia con i cittadini e con le cittadine e questo va fatto rendendo chiara la nostra identità. Quindi rendendo chiari quei punti, quei temi che per il Partito Democratico sono e devono essere imprescindibili, fondamentali. Ovviamente questo attraverso il contatto e il confronto con le persone, con le organizzazioni di qualsiasi anche tipologia per fare in modo che le problematiche e le stanze il nostro partito le possa rappresentare pienamente. Ovviamente il Partito Democratico non deve essere equidistante dai problemi. Quindi in ogni situazione va detto chiaramente che cosa si pensa e da che parte si sta.